Un'efficace gestione del fenomeno migratorio non può prescindere, come giustamente è stato ricordato, da un costante dialogo con i paesi terzi di origine e soprattutto di transito, che è il vero problema molto spesso dei flussi migratori, che si è improntato alla collaborazione a tutto campo e alla condivisione delle responsabilità. Questo concetto è chiaro da tempo all'Italia, che coltiva importanti rapporti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo ed è, o meglio, inizia ad essere finalmente chiaro anche all'Europa che si sta impegnando a sviluppare la sua azione esterna in materia migratoria nell'ambito dell'approccio globale alla migrazione e alla mobilità. L'area del Mediterraneo rappresenta una priorità assoluta, non soltanto per noi, non soltanto per l'Italia, ma per tutta l'Unione Europea e il nostro sforzo è volto a far comprendere pienamente alla dimensione europea e ai nostri partner europei che il tema, e dico tema, non dico problema, il tema è comunitario ed è da condividere. Nel 2013 circa il 70% degli arrivi via mare in Europa sono avvenuti attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, con partenza dalla Libia e destinazione Italia, contro il 12% della rotta occidentale e il 18% di quella orientale. Occorre poi tener conto del fatto che in Libia, il principale paese di transito di flussi migratori regolari verso l'Italia e del resto d'Europa, il Governo libico non ha ad oggi pieno controllo del proprio territorio, ne può garantire rispetto dei diritti umani dei migranti. Ciò rende impraticabile allo Stato attuale ogni ipotesi di collaborazione migratoria finalizzata al rimpatrio di migranti verso tale paese. Questo è uno, non è l'unico e forse non è neanche il primo, ma è uno dei motivi per i quali l'Italia è in questi mesi fortemente impegnata a sostenere il processo di dialogo e di riconciliazione nazionale in Libia.